Io la prestazione vista alti e bassi mi sembra che la partita l'ha fatta sempre la Fiorentina come al solito con la propria identità, poi purtroppo finalizziamo poco però mi prendo il punto, mi prendo la prestazione e andiamo avanti su questa strada perché l'unica strada è quella del campo, è quella del lavoro e noi siamo pronti per questo. Due giovani Bernardeschi e Babacar in particolare che hanno fatto benissimo l'assist e il gol in particolare oltre alle altre occasioni conquistate da Babacar. Noi abbiamo sempre detto di avere una rosa ampia dove i nostri giovani sono all'interno e dove devono dare come quegli esperti, noi siamo un mix giusto, un mix in crescita, una squadra che sicuramente non perde la propria identità, una squadra che anche se viene a Torino la vuole vincere perché l'abbiamo dimostrato fino al 94' una squadra voleva vincere, al gol del pareggio sono andati tutti a prendere la palla per portarla al centro campo, questo è il nostro spirito.